Non c'è pace per il ponte tra Romagnano e Gattinara. Sulla pagina Facebook Romagnano e Gattinara per il ponte sono state pubblicate delle immagini che mostrano i piloni del ponte letteralmente a nudo. Ma il sindaco di Romagnano Sesia, Alessandro Carini, rassicura e spiega che non ci sono criticità. Ma in verità non è una novità questa, perché se vi ricordate già 4-5 mesi fa era già emersa questa situazione dopo una prima piena. E' stato subito spiegato da parte di Anas su nostra sollecitazione che i pilastri sono sorretti da micropali che scendono alla proprietà di 20 metri. Quello che si vede è l'inizio delle sottofondazioni, perché gli operai hanno dovuto lavorare quasi a pelo d'acqua. All'uscita di queste foto io ho sollecitato Anas a fare una nota ufficiale che ha diramato ai giornali che spiegasse in maniera definitiva la situazione, anche per tranquillizzare ovviamente tutti. Non si ravvisa alcuna anomalia, tali immagini mostrano la porzione fuoriterra delle fondazioni, così come realizzate secondo il progetto esecutivo e che risultano particolarmente visibili dall'alveo. La parte fuoriterra delle fondazioni nei periodi di secca del fiume si evidenzia in modo più significativo. Le pile costruite in alveo sono state infatti realizzate su pali infissi nel sottostante substrato roccioso che adempiano in maniera efficiente al sostegno dell'impalcato. E' stato dimensionato per resistere in condizioni eccezionali di piena anche ad un eventuale scalzamento rispetto all'attuale quota di fondo dell'alveo. Grazie a tutti.